buon buon giorno a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video farò scusate quindi io ieri avevo un video da caricare giusto e l'ho dimenticato e se che volete ho degli impegni non è che posso sembrare quando posso posso ragazzi ora li sto rifacendo tutti incominciamo da tutto dall'era glaciale la valanga il quinto episodio ok ragazzi e poi oggi di sicuro angry shark world il prossimo episodio ok buona visione raga della glaciale la valanga ragazzi eccoci qui aspettiamo un po' Sì, non è vero. E d'accordo, ci proverò. Bello, ci proverò. Bello, ci proverò. Bello, ci proverò. Come on, come on. 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 I got one. Niente. Ragazzi. Abbiamo. P example. Petto. Oh. 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 come la, come la, come la, come la. Come la, come la, come la, come la, come la. Buon appetito. 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 He Slalom Slalom. I can wiggle my shower again I can wiggle my shower again Sì, è vero! Vai! Vai! niente riproviamo non Niente raga Finalmente raga You're the biggest thing on earth! You guys are getting fast! You're the biggest thing I've ever done You gotta play this... ...and you're the only one last one! I should... You've got to play this game Alright, I can't be able to play this game Ehi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Doviamo fare delle sculture, raga. Non possiamo giocare perché abbiamo perso. Il video direi che si può concludere. Beh ragazzi, spero che questo video dell'era glaciale, la valanga, il quinto episodio, faccio un sacco di errore in questo episodio. Vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un bel like, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Grazie. 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 Grazie.